Ci aspettiamo di crescere e con noi che possano crescere le pubbliche amministrazioni. Questo è un esempio classico di come la contaminazione, cioè le best practice degli enti, possano essere messe al centro e a disposizione di tutti. Solo in questo modo riusciamo a garantire una crescita. Formez è, nella sua natura, proprio un ente che si interfaccia con tutte le pubbliche amministrazioni, che deve trovare delle sintesi e deve riproporre poi dei temi finalizzati e utili per la crescita. Per noi sviluppo significa esattamente questo. Quindi un contest come PAOK è assolutamente affine al nostro obiettivo istituzionale ed è uno strumento fantastico che ci consente di svolgere quel ruolo di cerniera tra le PA. Quindi è assolutamente un'esperienza da fare, da approfondire e da mettere al centro per consentire al nostro paese di svilupparsi e di crescere.